Grazie a tutti per l'organizzazione della campagna elettorale. Come abbiamo fatto allora nel 2018, i primi incontri che abbiamo fatto erano soltanto in riferimento all'individuazione di punti per candidature anche, allora solo al Consiglio 1, ora anche a quartiere. Quindi questo è un giro di perlustrazione che si fa per predisporre l'organizzazione e la campagna elettorale. Il segreto di una buona campagna elettorale è esattamente la fase di preparazione, questa è la mia esperienza, non ha nulla a che vedere con quelle che sono le partecipazioni di massa, anche quelle ovviamente si hanno in un'altra fase, non è questa la fase. La situazione dei villaggi la conosco da tempo e quella della zona sud è una situazione che conosco anche in maniera diretta. Devo dire che invece proprio dai villaggi, proprio della zona sud e della zona nord si è partito in questi anni e come potete vedere anche con degli esempi che non sono banali. Questa piazza, con questi giochi messi un paio di mesi fa si sta cercando di rivitalizzare quel tessuto e bisogna continuare su questa strada. Un incontro con punti di riferimento della zona, con le persone che abbiamo già incontrato, non è un tour comiziale, anche perché non si fa a un quarto d'ora in tappo, almeno secondo me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.